Novara di Sicilia ha ospitato Star Gold Carnival al teatro Riccardo Casalaina. In occasione del Carnevale 2023, l'associazione Novara Eventi di Giuseppe Ferrara ha tirato la gestione della sfirata in maschera all'associazione Star Gold di Stella Giunta, colori, maschere e coriandoli divertimento per grandi e piccini. Il Carnevale fa parte del DNA di Novara di Sicilia. È un momento importante, è stato sempre per tanto tempo l'avvenimento mondano dell'anno per Novara. E ora finalmente abbiamo ripreso, abbiamo ripreso anche alla grande, con belle serate, bella gente, un ambiente sereno, tranquillo, pulito, che è la cosa più importante. Ogni anno per i festeggiamenti del Carnevale c'è stata sempre, non la sfilata dei carri, perché è una parola un po' grossa, ma la sfilata dei bambini, i bambini che vengono poi al teatro comunale, a cui viene assegnato un regalino e si ricordano perché i bambini debbano crescere in serenità e in tranquillità. Un pomeriggio diverso dal solito, perché con Stella abbiamo pensato di fare una cosa fuori, diciamo, dallo standard dei carnevali bambini, dei bambini a Novara degli anni scorsi. Spero che abbiamo fatto un effetto diverso, che c'è stato un po' di divertimento in più. I vincitori, potremmo dire, sono tutti, non si restano soltanto dei pareri soggettivi, ma poi alla fine comandano i numeri. Dunque è stata dura, abbiamo visto tante maschere belle, originali, ma alla fine, annotvi un fatto, quelle determinate maschere, anche se realmente in questo caso il vincitore è il Carnevale 2023 di Novara di Sicilia. Sare qui tutti riuniti in questo meraviglioso teatro è veramente grande orgoglio per me. Siamo qua con i primi classificati vincitori assoluti di Star Gold Carnival 2023. Lei si chiama? Alice. E lui? Francesco. Contenti di com'è andata? Sì. Sì. Siamo bellissime, grazie!